Annullare la chiusura alle ore 23 dei locali pubblici, eliminare il divieto di vendita per asporto dopo le 22, attivare maggiori controlli in strada dove si individuano assembramenti, concedere straordinariamente la copertura degli spazi esterni per il Covid. Sono i quattro punti richiesti e sottoposti alla Regione Campania attraverso un documento unitario dell'Associazione Commercianti per Salerno che questa mattina ha tenuto in Piazza Mendola un flash mob contro la decisione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca che con l'ultima ordinanza ha disposto nuove restrizioni ad un settore già duramente penalizzato dal lockdown. Obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura delle attività alle ore 23 da domenica a giovedì e alle ore 24 nei giorni di venerdì e sabato, ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione, pub, vinerie, kebab e similari, l'obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l'intera settimana, mentre le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Titolari di bar e ristoranti questa mattina hanno srotolato slogan in Piazza Mendola per sottolineare il loro disappunto per una decisione non condivisibile che pesa e cede un altro duro colpo alla categoria. Si colpevolizza un intero settore che invece nel tempo dopo il lockdown ha subito mostrato di essere rispettoso delle regole, ha dichiarato ai nostri microfoni il segretario dell'associazione Armando Pistolesi. Perché lei ritiene che siamo in grado di lavorare in queste condizioni, chiudere alle 11, molti colleghi come dicevo prima non hanno proprio aperto negli ultimi giorni, voglio dire un American Bar che comincia a lavorare alle 10, la chiusura alle 11 o a mezzanotte non è pensabile. Non fai neanche in tempo ad alzare la sala cinesca che devi chiuderla. Questa è la valutazione. Quindi insomma riteniamo che rispettando le regole come è stato fatto fino adesso sia sufficiente per limitare i contagi. Non siamo degli scellerati, non vogliamo i contagi schizzino. Quindi rispettiamo le regole, il distanziamento, mascherina, quando ci si alza dal tavolo perché limitarci in questo modo.